Niente acqua, luce e gas ed è subito scattata la protesta dei profughi ospitati al plaza Lido di Fano. Erano le 12.45 di sabato mattina, quando alcuni di loro, circa 25 persone, hanno bloccato il traffico in viale Cairoli sedendosi sull'asfalto. Il proprietario dell'hotel, Alessandro Calamandrei, ha scelto infatti di staccare le utenze nella struttura per due ore a causa del mancato saldo del conto del soggiorno dei ragazzi. I profughi, di età compresa tra i 18 e 28 anni, provenienti dal Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Gambia, Senegal e Emali, stanno trascorrendo nell'albergo le ultime ore. Domani infatti verranno trasferiti all'hotel Domus Marie, ad Acqualagna. Io contendi il sistema, il sistema è che questo non è accoglienza. Lei comunque gli aveva avvisati sabato che avrebbe staccato l'utente? Alle 10 gli ho detto guarda fatti una doccia che praticamente fra un'ora c'è stato tutto. E ho avvisato un gruppo e dico tu ridillo agli altri. Ma la cosa si sapeva da qualche giorno, eh? Dico se voi se non pagate io praticamente blocco i servizi. Non posso continuare a pagare dei servizi che non mi vengono rimborsati. Quanto deve avere lei? Complessivamente sono 25-26 mila euro. Quindi fa difficoltà a sua volta a poter garantire i servizi? Garantire i pagamenti del COE. Ho chiesto stamattina un frazionamento per il gas. Questi in mese di dicembre hanno consumato 3.855 euro di gas. Quindi non si può dire che sono stati a freddo, non si può dire di niente. I ragazzi come si sono comportati all'interno della struttura? Io come qualcuno di loro mi è andato a fastidio perché parecchi di loro vengono a mangiare a casa mia. Hanno le ricariche telefoniche, sigarette, soldi per comprare sigarette. Ah, usufruiscono di una password per avere il wifi in tutto l'albergo. E allora mi sembra... Io sono costretto a stare qui 10-12 ore al giorno perché hanno bisogno di tutto. Il signor Calamandrei sostiene inoltre che l'Associazione Incontri per la Democrazia non sia stata all'altezza del compito affidato gli dallo Stato. Non c'è mai nessuno, ma non c'è mai nessuno nella realtà. E poi c'è un operatore ecologico, che io non so se si può chiamare tali quali, perché è uno straniero che parla un italiano incomprensibile. E l'altra sera sono venuti i carabinieri, sono presi con lui. Diciamo lì che ci sta a fare qui? Che ci sta a fare se è anche incavorato un carabiniere? Perché praticamente non ci sono, non esistono. Ci sono uno tanto. La cosa basilaria è che secondo me non c'è assistenza. Se non c'è assistenza non c'è accoglienza. C'è dunque un'area pesante tra il titolare del plaza e l'associazione che li gestisce. Un operatore di incontri per la democrazia ha voluto precisare la loro posizione, affermando che non hanno nulla di cui rimproverarsi per il lavoro svolto. Abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile per i ragazzi. Ci sono sempre due operatori 24 ore su 24 e quindi quello che dice Calamandrei non è vero. Calamandrei ha affittato il locale, è stato sempre presente, ha solo causato problemi, spesso ha staccato altre volte anche se non come l'altro giorno, ha tolto i riscaldamenti, ha causato una serie di problemi infiniti veramente. Intanto Calamandrei ha inviato una lettera al commissariato di Fano scusandosi per l'accaduto. Dopo aver spiegato in diversi punti le ragioni del suo cesto, ha concluso scrivendo «Ho sicuramente sbagliato nel tentativo di bloccare un servizio di pubblica utilità, ma quale altro mezzo avevo per far conoscere la situazione? Chiedo umilmente scusa per il disagio provocato». È una situazione vergognosa. Annunciamo un presidio sotto l'hotel Domus Maria, l'albergo in cui verranno trasferiti profughi alloggiati al plaza a Lido di Fano. È decisa Forza Nuova che attraverso una manifestazione intende denunciare diverse situazioni. La prima, dicono, i soldi facili guadagnati dagli hotel con il business immigrazionista. Dall'altra, lo sfregio e l'arroganza di chi è ospitato dai contribuenti italiani, già abbastanza attassati, precisano che a nostro avviso sopportano con troppa pazienza questa situazione deprimente. «Siamo determinati a portare avanti questa lotta», concludono. «Pertanto non ci importa se gli immigrati verranno spostati. Noi li seguiremo». Dopo gli avvenimenti accaduti sabato scorso a Lido di Fano, dove i profughi hanno protestato per il taglio di servizi, diverse forze politiche hanno preso una posizione. D'accordo con la decisione del proprietario del plaza, Alessandro Calamandrei, e il segretario della destra Fano, Margherita Campanella. «Se ha chiuso temporaneamente le utenze, al solo scopo di attirare l'attenzione nei suoi confronti, ha fatto bene», ha dichiarato. «Perché mai questo esercente dovrebbe fidarsi dello stato di questo governo che da una parte obbliga i cittadini italiani a fare solidarietà e accoglienza e dall'altra non assolve ai propri doveri di erogare le cifre messe a bilancio. Forse pretendono che gli albergatori facciano accoglienza esclusivamente con il proprio denaro? In questo caso non sarebbe un servizio, dice, ma beneficenza e questa non la si può imporre. Esattamente come non si può imporre una convivenza forzata tra culture non sempre interagibili. Comincino questi politici a dare l'esempio ospitando nelle loro case e nei loro quartieri di lusso migranti, zingari e profughi e sono sicura, conclude, che la gente comune ne seguirà l'esempio. Diversamente tacciano. Ad esprimere invece una ferma condanna e piena solidarietà ai cittadini fanesi che sopportano il disagio è il segretario della lista civica Latua Fano, Francesca Cecchini. Una questione molto pesante perché comunque sia ci sta tutto l'integrazione, ci sta fargli venire, però un paese come il nostro che comunque sia sta affrontando una grossa crisi economica è impensabile che possa sostenere dei costi per mantenimento di questi immigrati. La zona Lido, dove ci sono operatori turistici, dove ci sono attività commerciali, anche cittadini che vivono lì, si sono trovati di fronte a questa situazione non governabile. Anche se dicono sì, sono controllati, c'è il controllo, però non è così, perché quello che si è verificato sabato è una cosa che penso nessun cittadino vorrebbe trovarsi di fronte. Il punto è questo, che se vengono qua in Italia e sono ospitati, e hanno da mangiare, hanno tutto, devono poi rendersi conto che comunque loro si devono mettere in condizioni di essere ospitati. Quindi è vero che non ci sono stati tempi per fare dei lavori socialmente utili, è anche vero però che se sono qua devono creare loro le condizioni di poter essere ospitati. Anche perché poi il lavoro non ce n'è che per gli italiani, e quindi questi lavori socialmente utili sarebbe bene prima darli ai disoccupati fanesi e anche italiani, e poi magari pensare a loro.